Amici buongiorno, nella nostra ricerca dell'eccellenza del Polesine siamo a Taglio di Po davanti a Medica Taglio di Po che con Medica Portoviro fa parte appunto di un gruppo importante per quanto riguarda la prevenzione, la cura, le analisi di patologie, analisi mediche eccetera. E visto che inaugura in questa settimana un servizio nuovo che è il servizio dei prelievi chiediamo a uno degli amministratori Mirko Pedonna il perché e le peculiarità appunto di questa iniziativa. Andiamo! Buongiorno, dal lunedì presso le strutture di Portoviro, presso la struttura di Taglio di Po partirà il nostro nuovo servizio ovvero il centro punto prelievi. 100 punto prelievi che le offriamo tutte le mattine dalle 7 e mezza alle 9 e mezza dal lunedì al sabato, su prenotazione, la colazione le offriamo noi, zero liste d'attese e check up anche personalizzati per un'ottima diagnostica e una prevenzione della salute. I costi per il punto prelievi è esattamente quello del sistema sanitario pubblico. Zero tempi, zero liste d'attese, tutte le mattine dalle 7 e mezza alle 9 e mezza. Andiamo! Grazie a tutti.